Un benvenuto alla presentazione di Vedova Network Blogs.blogs.vedovanetwork.com Blog hosting gratuito, ma professionale. Il sito è raggiungibile a questo indirizzo, http.blogs.vedovanetwork.com Arriverete a questa pagina dove è possibile visualizzare sia tutti gli altri utenti iscritti che scrivere a vostra volta un vostro account e creare un proprio blog. Perché con un solo account è possibile creare diversi blog su Vedova Network Blogs. Bisogna andare qua sotto la scritta da questa pagina è possibile e cliccare su creare un nuovo blog. Eccoci qua, la pagina ottiene il tuo account e Vedova Network Blogs in pochi secondi. Inseriamo un nuovo utente fictizio tipo Emanuele Test per esempio un indirizzo email un nome il nostro nome ovviamente che sia una cognome o completo o indifferente scegliamo un avatar che praticamente è l'immagine che utilizzeremo per i nostri blog per essere registrati, iscritti nella piattaforma di Vedova Network Blogs per fare anche la nostra foto scegliamo attenzialmente Damian Blogs perché se scegliete Damianus quando rientraete dopo dovreste creare i blog con una procedura a parte in un secondo momento in questo modo fa tutto in un colpo solo andiamo su successivo ecco l'ostante che carica ed eccoci adesso alla pagina in più possibile dare un nome al proprio blog in questo caso lasciamo Emanuele Test è un test di blog quindi scriviamo appunto test di blog come esempio ok lasciamo voglio che questo blog abbia il suo motore di ricerca clicchiamo su registrati aspettiamo il caricamento congratulazioni il tuo nuovo blog questo blog è quasi pronto è necessario aspettare l'email verificare l'email che ci è giunta e cliccare sul relativo link apriamo il carico di riposta e controlliamo ecco qua arrivata l'email per attivare il tuo blog se clicchi sul link facciamo clic sul link e ci porterà direttamente alla pagina dove è possibile verificare l'attivazione dell'account ecco qua il tuo counter è attivo non mettete Emanuele Test attenzione alla password che è univoca e viene data generata in modo casuale non l'abbiamo non la perdete e la password quando si perde ovviamente è possibile recuperarla dalla possibilità di attività disponibile sul sito ok facciamo un copia andiamo su login e entriamo nel sito eccoci qua questa è la schermata di avvio inseriamo che è quella visualizzata se possiamo fare anche clic su ricordami se vogliamo che ce la ricordi e facciamo su collegati dopo accederemo eccoci qua questo è il nostro blog pannello di controllo del nostro blog lo spazio di disposizione la percentuale utilizzata gli articoli tutto creato la serie di security release tutto quanto possiamo andare su articoli per creare un articolo andiamo su modifica se dobbiamo modificarlo se no fare semplicemente aggiungi nuovo mi raccomando basta spuntare questa linguetta il nome dell'articolo test per esempio scriviamo test di prova ok andiamo su pubblica ricordatevi i tag per esempio prova test indispensabili sui motori di ricerca o anche elencati se un tento deve cercare qualche parola chiave particolarmente interessante nel nostro blog facciamo clic su aggiungi vedete qua ok sono inseriti possiamo avere anche teppie oppure pubblica o semplicemente salvare una boccia andiamo su pubblica e pubblichiamo questo è il link il permalink da cui sarà raggiungibile il vostro articolo adesso vi farò vedere come modificarlo andiamo su plugin installati e qui abbiamo le stizioni decine e decine di plugin se direva network nessuna piattaforma che ne risulti ne ha così tanti aggiornati automaticamente e disposizione anche a plugin come adman head and footer vp125 per creare i banner sputare i codici ad sense sputare il blog per creare traffico ad sense per guadagnare con i banner con codici ad sense o quello che volete tutto questo in modo assolutamente gratuito ok abbiamo a disposizione anche facebook twitter status updater che pone un link sul vostro sito di twitter o facebook su questo profilo un richiamo al vostro link in modo automatico abbiamo a disposizione facebook e tutto quanto ancora allora suggeriamo attivare all one pack CEO all one CEO che riguarda i motori di ricerca e consente di venire raggiunti google xlm sitemap per sottomettere una pagina con tutti i link a google e direi che per ora può bastare anche il slap di google pr in modo che in alto avete la percentuale di link page rank di google share tips perché abbiamo un bottone di condividi che consente di condividere i link al vostro articolo nei vari facebook youtube qualsiasi altro social network ecco wordpress plugin per visualizzare i video vp copy protect se volete proteggere i vostri articoli dal copy e incolla anche delle immagini recatta vp 125 metto vp kubunus effetto bellissimo interessante di tag oh in questo caso direi di andare direttamente così qua vi stavo dicendo andiamo su admin e un po' di go coach che crea url brevi per il vostro sito dopodichè azioni di gruppo attiva applica se è tutto ok per l'ha attivato parte all'umansio pack che va configurato andiamo su go the admin page ok selezioniamo enable mettiamo un titolo al nostro blog ok la descrizione ok la descrizione le cable importantissime i prematori di ricerca usa categoria per i tag spuntiamolo vediamo update option in questo caso verrà attivato sarà facilmente raggiungibile motori di ricerca molto utile un'altra cosa andiamo su generale controlliamo se ci piace ok possiamo anche modificare il motto questo è solo un altro blog tagliato a video network blogs lo modifichiamo in test blog per esempio andiamo su log out siamo fuori andiamo su torna test e ci fa visualizzare come abbiamo creato vi ricordiamo che lo spazio è fatto da vedova network blog hosting gratuito per tutti vedovanetwork.com grazie a tutti